Ciao, sono Giuseppe Di Domenico e sono un consulente specializzato nel risanamento finanziario delle aziende. In pratica mi occupo di debiti di aziende in difficoltà, dei loro problemi finanziari e di come risolverli. Ogni giorno aiuto gli imprenditori a trovare il modo migliore per agire e salvare le aziende per le quali hanno sacrificato tutto o quasi. In questo video andremo a scoprire il meccanismo nascosto dietro il sistema delle segnalazioni negative che porta alla bocciatura della maggior parte delle richieste di finanziamento ed in particolare ci focalizzeremo su tre argomenti. Per prima cosa andremo dietro le quinte rivelando come funziona il sistema delle segnalazioni in centrali rischi e degli altri sistemi di informazione creditizia e perché nessun operatore può alterarlo o aggirarlo anche se molti promettono il contrario. In secondo luogo ci concentreremo sul motivo per il quale bisogna prestare attenzione a quello che è successo nei tre anni precedenti la richiesta, purché i rapporti con quell'intermediario siano stati chiusi formalmente e definitivamente. Infine cercheremo di capire qual è il motivo per il quale non contano solo le segnalazioni dell'azienda ma anche quelle dei soci e quelle dei garanti e quanto il destino di questi tre soggetti rimane interconnesso anche dopo un eventuale chiusura dell'azienda. Ma partiamo dal principio e cerchiamo di capire come funziona il sistema delle segnalazioni in centrali rischi e negli altri sistemi di informazione creditizia e perché nessun operatore può alterarlo o aggirarlo anche se molti promettono il contrario. Non so se lo sai ma agli inizi della mia carriera lavoravo per una società multinazionale di consulenza alle aziende e ho avuto modo di lavorare ad alcuni progetti per le banche e le società finanziarie. In quel periodo stavano introducendo i meccanismi di segnalazione che oggi alimentano il database della centrale rischi di Banca d'Italia e degli altri sistemi di informazione creditizia. Ed è su quegli aspetti che la società per la quale lavoravo era stata chiamata a formulare una strategia di gestione delle esposizioni finanziarie. Quel lavoro a stretto contatto con gli operatori impegnati nello sviluppo delle procedure che stanno dietro il meccanismo delle segnalazioni mi ha permesso di riconoscere dall'interno le modalità in base alle quali gli intermediari trasmettono le segnalazioni ed anche il sistema sanzionatorio costruito per ridurre al minimo la possibilità che vengano commessi errori o vengano omesse informazioni. In pratica ogni intermediario segnala l'esistenza di un rapporto di credito con i propri clienti ad uno o più sistemi di informazione creditizia e questa segnalazione avviene ogni fine mese. Alla fine di ogni mese infatti l'intermediario segnala a Banca d'Italia o a CRIF o a entrambe alcune informazioni chiave sul rapporto di credito in essere. Viene segnalata ad esempio la durata del rapporto ma anche il credito residuo, l'ammontare utilizzato, il tipo di linea di credito concessa e soprattutto l'esistenza o meno di situazioni di sconfino o insoluto. Oltre che naturalmente le informazioni anagrafiche di tutti i soggetti coinvolti nel rapporto di credito. Non vengono quindi segnalati solo gli eventi negativi come erroneamente molti sono portati a credere ma anche le informazioni sull'andamento delle linee di credito in regolare gestione. Questo permette ad ogni intermediario in ogni momento di conoscere i parametri che determinano lo stato del rapporto tra la banca ed il cliente e di utilizzare questi valori per adeguare la propria valutazione sul rischio di credito, di decidere di ampliare la propria esposizione ovvero di ridurla, revocando le linee di credito che non hanno una scadenza contrattuale predeterminata. Le informazioni vengono trasmesse dagli uffici dedicati di ogni istituto di credito e sono costituite da pacchetti di dati composte da migliaia di posizioni diverse che attraverso un flusso informatico vengono trasmessi al database dei sistemi di informazione creditizia all'interno del quale vengono registrati e organizzati in modo da essere fruibili. In pratica nessun operatore da solo è in grado di alterare le segnalazioni già avvenute né tanto meno i dati trasmessi che vengono codificati direttamente dai sistemi informatici degli enti che posseggono i database. Al massimo quello che a volte capita è che il malcapitato di turno che ha pagato per farsi ripulire il nominativo si trovi in mano un documento che è stato alterato al computer ma che non corrisponde alle informazioni presenti nei database che le banche usano per determinare il rating. Il meccanismo delle segnalazioni ha un lato positivo ed uno negativo. Il lato positivo è costituito dal fatto che quando un intermediario segnala l'esistenza di rapporti regolari aumenta le probabilità che in futuro la tua azienda possa accedere ai finanziamenti ed a condizioni migliori. Allo stesso tempo però se ci sono dei problemi le segnalazioni negative impattano sul rating in maniera anche abbastanza silenziosa fino a quando la situazione non diventa difficilmente rimediabile. Il paradosso in questo sistema consiste nel fatto che nella pratica le segnalazioni che arrecano danni maggiori cioè quelle di insoluto e di sconfino e che erodono le possibilità dell'azienda di avere nuove linee di credito man mano che trascorre il tempo sono segnalazioni che non hanno alcuna evidenza per il soggetto che le subisce. In pratica l'imprenditore che viene segnalato non è al corrente dei danni che queste segnalazioni stanno recando al proprio merito creditizio e che rischia seriamente di non poter più accedere al credito proprio a causa delle segnalazioni meno rumorose. L'allarme infatti scatta solo quando arriva la comunicazione di incaglio o peggio ancora di sofferenza che in realtà parte solo quando il maggior danno è già stato fatto e le possibilità di rimediare in tempi brevi sono ridotte all'umicino. Analizzato questo aspetto cerchiamo di comprendere il motivo per il quale è vero che bisogna prestare attenzione a quello che è successo nei tre anni precedenti ma solo se i rapporti con l'intermediario sono stati chiusi formalmente e definitivamente. Un altro mito da sfatare nell'ambito delle segnalazioni riguarda infatti la durata presunta di permanenza delle stesse nelle banche dati perché questo impatta direttamente sul punteggio che la banca assegna all'imprenditore. Rientra ormai nelle conoscenze di chiunque lavori con le linee di credito bancarie che una posizione non regolare resti segnalata per 36 mesi. In pratica si crede erroneamente che dopo tre anni la segnalazione venga automaticamente cancellata dalle banche dati a prescindere dalle sorti della linea di credito segnalata. Quello che non tutti sanno però è che la data di inizio del conto alla rovescia nel caso in cui ci siano segnalazioni negative non parte dal momento in cui c'è stata la segnalazione ma dal momento nel quale la posizione è stata chiusa in una qualche maniera. La posizione può essere stata estinta o può essere decorsa la sua naturale scadenza. Non importa ma deve essere stata chiusa. Questo vuol dire che a meno che la posizione segnalata non venga estinta in qualche maniera in realtà la segnalazione rimane ben visibile all'intero sistema finanziario ben oltre i tre anni. Ma perché c'è questa soglia dei 36 mesi? Perché questa è secondo le regole attuali della Banca d'Italia la finestra temporale che hanno a disposizione gli intermediari quando accedono informazioni della centrale rischi ed è la stessa durata stabilita dalla CRIF che è una banca dati privata come durata convenzionale delle segnalazioni negative. Gli intermediari infatti hanno accesso a una reportistica più limitata di quella messa a disposizione dei soggetti segnalati che invece sono in grado di andare a ritroso fino alle origini di ogni singolo rapporto di credito. Voglio anticiparti un segreto sconosciuto a molti. Presentarsi in banca con la propria versione della centrale rischi quella con tutte le informazioni disponibili e alla quale gli intermediari non hanno accesso è una mossa che permette di migliorare il grado di fiducia espresso dalla banca nella concessione del credito e il tuo rapporto con l'istituto. Naturalmente bisogna valutare caso per caso se e quando è il caso di consegnarla per evitare che questa mossa si trasformi in un boomerang che chiude per sempre l'accesso al credito. Ritornando alla questione dei 36 mesi abbiamo visto che la ragione per la quale viene normalmente suggerito di prestare attenzione ai tre anni è che la banca ha accesso alle informazioni presenti in quella finestra temporale. Quello che però non ti viene detto è che il conto alla rovescia parte non dal momento della segnalazione ma dal momento in cui il debito in qualche modo viene estinto anche per scadenza contrattuale ed è a questa data che bisogna fare riferimento. Nell'ultima parte del video cercheremo quindi di capire qual è il motivo per il quale non contano solo le segnalazioni dell'azienda ma anche quelle dei soci e dei garanti e quanto il destino di questi tre soggetti sia interconnesso anche dopo un'eventuale chiusura dell'azienda. Molte richieste di finanziamento vengono rifiutate anche se apparentemente le banche dati dell'azienda non riportano la segnalazione di eventi tali da giustificare il rigetto della domanda. In questi casi spesso la ragione da ricercare nella presenza di segnalazioni di questo tipo nelle banche dati riferibili ai soci o ai garanti dell'azienda. Le posizioni creditizie di tutti i soggetti collegati si influenzano a vicenda nella determinazione del merito creditizio pertanto se esistono delle segnalazioni negative riferibili ad un soggetto che magari fa da garante alla società il rating della società si abbassa al punto tale da causare il rifiuto di ogni forma di finanziamento. Questo è vero anche nei casi in cui le posizioni segnalate facciano riferimento a debiti molto vecchi perché entra in gioco il meccanismo di cui parlavamo al punto precedente. Quindi se è una di queste segnalazioni a bloccare l'accesso al credito un unico modo per sbloccare la situazione è quello di gestire la posizione pendente e distinguerla anche attraverso una transazione. L'importante è che la posizione venga estinta in un modo o nell'altro. Cosa puoi fare a questo punto? Devi scegliere. Puoi decidere di ignorare quello che hai scoperto in questo video e di continuare come hai fatto fino ad oggi andando avanti per tentativi tra consigli di avvocati, commercialisti e professionisti di ogni sorta che improvvisano un lavoro. Non te lo auguro ma non mi sorprenderebbe se tra due o tre anni dovessi venire a sapere che non hai risolto niente anzi che le cose sono peggiorate. Parlo ogni giorno con imprenditori che hanno aspettato almeno sei mesi prima di contattarmi dopo aver scaricato una delle guide gratuite che diffondo continuamente, letto un articolo del mio blog, ho visto uno dei miei video. Anche loro hanno tentato, hanno seguito il suggerimento di qualcuno e si sono decisi a chiedere aiuto solo quando i problemi sono diventati molto difficili da risolvere. Non basta seguire qualche consiglio improvvisato per sistemare una situazione difficile. Serve un piano, una strategia pensata da chi sa fare questo mestiere. È per questo che ho messo insieme un team di esperti capaci di fornirti il supporto e l'assistenza che ti servono per superare questo momento. Un gruppo con tutte le conoscenze di cui hai bisogno che lavora come se fosse un'unica persona in grado di liberarti da tutti quegli incontri, da quelle telefonate, da quelle preoccupazioni e da quelle rotture di scatole che ti stanno rubando sempre più tempo impendendoti di fare il tuo lavoro di imprenditore. Ho messo insieme un team di esperti che ha lavorato su quasi 2000 casi di imprenditore in difficoltà e che lavora seguendo un metodo pensato apposta per risolvere i problemi delle imprese in crisi, il metodo di Domenico Debiti. Prenota adesso una consulenza preliminare gratuita e scopri quello che possiamo fare per te. Clicca sul link che trovi qui sotto, scegli la data e l'ora per l'appuntamento, inserisci le informazioni richieste nel modulo di contatto e verrai richiamato da un consulente pronto a capire con te come possiamo aiutarti. Ciao! Grazie! Grazie!